Emergenza maltempo, situazione in Puglia in via di generale miglioramento dal punto di vista meteorologico. Ma si temono le prossime ore, lo rende noto il centro funzionale della sezione regionale della protezione civile. Le strade nel Barese e nella zona delle Murge e Tarantine restano ancora innevate ma comunque percorribili. L'aggiornamento nel nostro servizio. Dal centro funzionale della sezione regionale della protezione civile si informa che la situazione in Puglia è in via di generale miglioramento dal punto di vista meteorologico. Le strade nel Barese e nella zona delle Murge e Tarantine restano ancora innevate ma percorribili con catene gomme termiche. Nel Salento le strade sono in gran parte con il manto nevoso in via di scioglimento per l'innalzarsi delle temperature. Sono possibili ancora piccole nevicate nelle zone più alte della Puglia. Risolta la situazione dei mezzi pesanti intraversati nella zona di Gioia del Colle sulla Statale Cento che ieri sera avevano bloccato dei pullman. Anche i treni bloccati tra Foggia, Bovino e Orsara, un frecciargento e due intercity sono ripartiti intorno all'una del mattino. Si raccomanda intanto la prudenza per i tratti ancora gelati sulle strade. Stiamo affrontando queste giornate di intense nevicate, dichiara il presidente della regione Puglia Michele Emiliano con una grande collaborazione di tutte le componenti del sistema della protezione civile. Le notizie di oggi sono abbastanza positive nel senso che dal punto di vista meteorologico la situazione è in miglioramento. Grazie. Grazie.